Riprenderà domani lunedì 28 dicembre l'attività del Consiglio regionale e l'ultima seduta del 2015 che farà chiudere l'anno a quota 54. Escludendo quanto l'Aula di Palazzo Moffa approverà domani, sono 330 finora le delibere licenziate, 19 invece le leggi approvate e ricordate dal Presidente del Consiglio, Vincenzo Cotugno, in occasione del bilancio di fine anno. Da sottolineare l'istituzione del garante regionale dei diritti della persona che concentrerà in un'unica figura le funzioni relative alla difesa civica, al sostegno, alla tutela dei minori e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Da menzionare anche la legge sul riordino delle funzioni esercitate dalle province e quella recante le nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio. La priorità ora resta quella della tutela dell'ambiente e del territorio regionale. L'ambiente significa la salute dei cittadini, non bisogna abbassare mai assolutamente la guardia per quanto riguarda la salvezza dei nostri territori, la salvaguardia dell'ambiente, significa il benessere della nostra regione. Noi dobbiamo lavorare e dobbiamo costruire una società nuova che rispetti l'ambiente perché l'ambiente è una risorsa, non solo a livello economico, ma è una risorsa di vita per i cittadini molisani e non. Ecco, tanti gli incontri che sono stati fatti per arrivare a una legge il più condivisa possibile. I tempi? Ma noi il 28, nella seduta del 28 abbiamo già calentarizzato il piano dei rifiuti che provvederemo ad approvare con gli emendamenti già concordati con il governo regionale e con la struttura regionale che va nella direzione che diceva della salvaguardia assoluta dell'ambiente che non deve essere assolutamente depredato né messo in discussione. Il lavoro, la sanità e l'area di crisi invece le sfide del nuovo anno che sta per aprirsi.